Donne e giovani fanno la parte del leone tra i 232 candidati delle otto liste in coalizione. La politica riparte da loro, così il candidato presidente Giovanni Legnini. Un laboratorio a cui anche altre regioni guardano è stato detto nel corso della presentazione delle liste PD al Museo delle Genti di Pescara con gli esponenti del Partito Democratico che hanno appoggiato il nuovo progetto del candidato presidente Giovanni Legnini. Un progetto aperto alla società civile per fare insieme politica e un nuovo Abruzzo. In un tempo in cui ci si allontana dalla politica per delusione o disillusione Legnini tiene a precisare che nelle otto liste tra i 232 candidati che lo appoggiano 102 sono donne pari al 44%, 8 sono i ventenni, 26 i trentenni e 66 i quarantenni pari al 43% del totale. I partiti politici, ha aggiunto Legnini, devono mettersi a disposizione dei professionisti della società civile che magari per la prima volta hanno deciso di scendere in campo. E proprio oggi l'ex vicepresidente del CSM ha rilasciato una lunga intervista alla Fington Post. Sono molto soddisfatto per la composizione delle liste, non soltanto per la quantità che è per davvero elevata, la più elevata, segno che l'appello che formulai ai primi di novembre è stato largamente raccolto, l'appello alla società civile. È l'espressione di molti mondi, moltissimi mai candidati a nulla. I punti forti del programma? Sono tre, più due presupposti. Lavoro, lavoro, lavoro. Faremo di tutto affinché ogni legge, ogni provvedimento, ogni euro spesso sia orientato alla crescita economica e alla creazione di opportunità di lavoro. Ambiente pulito, disinquinamento e valorizzazione dei nostri territori, sostenibilità dello sviluppo. E poi salute, diritto alla salute, uguale per tutti. Riorganizzazione del sistema sanitario funzionale solo alla prossimità, alla vicinanza, al prendersi cura e poi all'economicità e all'efficienza della gestione. I due presupposti sono la ricostruzione nei due caratteri sismici e l'altro un'istituzione forte, autorevole, efficiente, con una riforma incisiva dell'istituzione regionale e della sua macchina amministrativa.